Sudditi Il libro è dedicato ad approfondire la simmetria di trattamento che c'è tra il cittadino e lo Stato. L'obiettivo del libro è far emergere tutti quei casi in cui le regole fiscali, procedurali, giuridiche, trattano il cittadino in un modo e lo Stato in un altro, danno al cittadino dei doveri e allo Stato dei diritti e denuncia questa simmetria come una delle ragioni del declino italiano. E quindi implicitamente vuole proporre una serie di interventi volti a fare del suddito un cittadino e del sovrano un governo allo scopo di porre questo tema di riconoscimento dei diritti e dei doveri, della simmetria che deve essere tra i diritti e i doveri, come la base di una nuova crescita per l'Italia. Se lei dovesse definire il libro lo definirebbe un po' più politico, un manifesto politico o anche un po' polemico nei confronti della società contemporanea? Il sottotitolo del libro che è uscito immediatamente alla fine del 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia è un programma per i prossimi 50 anni e vuole indicare da un lato che c'è tanto da fare, dall'altro lato che questo tanto da fare è anche frutto degli errori e delle omissioni fatte nei 150 anni passati e infine che dobbiamo cominciare subito a rimboccarci le maniche sapendo che è un lavoro molto lungo. Grazie